Continuano i servizi straordinari dei carabinieri dedicati alla tutela dell'ambiente e al contrasto delle varie forme di inquinamento. Durante la giornata di ieri l'attenzione dei militari dell'arma del Comando Provinciale di Agrigento si è concentrata su un'area di vita di scarica abusiva sull'isola di Lampedusa nel cuore del Mediterraneo. I carabinieri della stazione e presidio dell'arma sul territorio hanno sequestrato un'ampia fascia di terreno ubicata in una zona disabitata dell'isola dove era stato realizzato un vero e proprio cimitero per le autovetture. Carcasse di automobili, vecchi motocicli, sportelli, sedili, parti di veicoli e perfino una impastatrice per il cemento e un camion erano state accumulate in aperta campagna. Insomma, davanti agli occhi ai carabinieri intervenuti era presente tutto quello che probabilmente si troverebbe da uno sfascia carrozze. Le indagini svolte dai militari dell'arma hanno consentito di individuare e denunciare il responsabile. Si tratta di un Lampedusano che dovrà adesso giustificare di fronte al Tribunale di Agrigento la sua condotta dannosa per l'ambiente. Lo sversamento dei liquidi contenuti nei motori e nelle batterie delle auto abbandonate alle intemperie, ad esempio col tempo, rischia di penetrare nel terreno inquinando in mondo grave anche il sottosuolo e le acque. Analoghi servizi, dicono dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, proseguiranno nelle prossime settimane.